ciao ragazzi allora oggi voglio farvi vedere come promesso la mia pistola con pompa di bicicletta la ppb 4.5 4.5 perché l'ho fatta con in pratica spari i piombini delle carabine e pratica questi ora niente la pistola sono dei pezzi di tubo elettrico mirino fatto artigianalmente anche questo con vari diametri di tubo elettrico questa è la pompa per bicicletta in pratica qua si vede la carica che si effettua in bar di solito arrivo fino a 7-8 bar quindi un compo singolo a 7-8 bar è buono diciamo è una buona una buona potenza ora niente il colpo si carica con questo sistema di carico ho usato un tubo un tubo d'acciaio un tubo di ferro con un diametro di 5 4.5 ho messo una gomma per eliminare le perdite di aria una vite e questo è il sistema poi con un dremel in pratica si fa tutto questo questo alloggiamento i tubi scorrono poi ci ho aggiunto un po' di nastro per far sì che anche qua l'aria sia la dispersione d'aria sia minima e poi un altro tubo elettrico con anche qui un silenziatore fittizio solo per estetica diciamo non so se si vede il mirino dentro ho usato un pezzo di plastica di una vecchia mangianastri e niente allora si carica il colpo singolo si carica si guarda la carica così sono 7 bar 7 bar e si spara è abbastanza precisa come come gittata magari più avanti farò vedere un video con con dei bersagli come vedete la potenza è buona ok ragazzi ok il test è andato bene niente volevo solo dirvi di fare attenzione perché essendo pistola d'aria compressa con pallini di piombo mi raccomando fate attenzione non mi assumo le responsabilità per qualsiasi cosa che vi possa accadere e oltretutto non usate questi affari contro persone e animali ma contro bersagli e divertitevi solo in questo modo ok ciao ragazzi alla prossima io ciao Grazie.